notizia molto importante quella rilanciata da fabrizio romano il mercato della juventus sta seriamente partendo e sta decisamente dando una spinta che siano giunte da quello che potrebbe essere il rinforzo o chissà più di un rinforzo per la juventus perché attenzione arriva una conferma importante in merito a una trattativa di mercato che si è ufficialmente avviata scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su fcm newsport io prima di tutto vi ringrazio quota 55 mila iscritti abbondantemente raggiunta quindi grazie davvero di cuore ma continuate a supportarci mi raccomando iscrivetevi totalmente gratuito attivate la campagna notifiche lasciate un like a questo contenuto come spesso vi dico questo è uno dei pochi canali sulla piattaforma essere totalmente gratuito non c'è nessun tipo di costo aggiuntivo dovete semplicemente seguirci e se vi va lasciare un like per supportarci questo è l'unico supporto che vi chiediamo che è gratuito non vi costa nulla ed è assolutamente appunto gratuita allora andiamo alla notizia perché Fabrizio Romano stavolta rilancia con quella che è una notizia molto molto importante ve ne avevamo già parlato nella giornata di ieri ma oggi ci sono degli ulteriori risvolti molto interessanti per la trattativa perché ieri abbiamo parlato di Calvin Phillips che si avvicina alla juventus perché il giocatore avrebbe detto sì alla juventus avrebbe detto sì al trasferimento in prestito alla juventus ci sono però dei risvolti perché Fabrizio Romano ci aggiorna sulla situazione dicendo che la juventus ha avviato ufficialmente i contatti col city per discutere del trasferimento di Calvin Phillips alla juventus c'è però un dato importante a sottolineare quello della della formula utilizzata perché se ad esempio ieri Rai Sport parlava di quello che era un trasferimento semplice un prestito secco di soli sei mesi beh Fabrizio Romano ci dice che le cose non stanno esattamente così perché evidentemente c'è qualcosa di diverso partiamo dalla formula la juventus ha offerto un prestito non secco ma con diritto di riscatto senza alcuna cifra in questo momento riportata perché evidentemente la juventus ancora non si è sposta così tanto ha presentato di fatto un'offerta con un prestito con diritto di riscatto il city invece di contro ha chiesto l'obbligo di riscatto quindi non è così immediata come l'aveva riportata Rai Sport cioè non è così scontato il fatto che il city apra al prestito con diritto di riscatto o comunque prestito secco il city chiede il riscatto e stanno però proseguendo i contatti tra i due club questo quindi questo cosa vuol dire che la juventus non ha definitivamente chiuso il colpo perché se avesse definitivamente aperto al prestito secco il city saremo già i dettagli perché saremo già la chiusura di un'attrattiva che porterebbe alla juventus un giocatore che serve in questo momento a massimiliano allegri per completare un centrocampo che ricordiamo lo primo di fagioli e poi va deve numericamente vedere un inserimento importante quindi secondo fabrizio romano la trattativa c'è e in piedi la juventus offre un prestito con diritto di riscatto quindi si riserva la possibilità a giugno di decidere se riscattarlo o meno il city che si vuole liberare un giocatore preso praticamente un anno e mezzo fa ma per 60 milioni il city vuole guadagnare come vi ho detto però ieri attenzione e ora arriviamo all'aspetto tattico del perché secondo me questo non è esattamente il giocatore ideale per la juventus e da un punto di vista invece prettamente economico parliamo di un'operazione che potrebbe portare di vantaggi perché arriva in prestito senza alcun tipo di sborso iniziale soprattutto eventos vuole una piccola percentuale pagata al city per quanto riguarda l'ingaggio il city ha intenzione però di venderlo e potrebbe anche accettare il prestito con diritto di riscatto perché come avevo detto più volte la juventus potrebbe valorizzare il ragazzo potrebbe far sì che poi va in prestito e va poi all'europeo grazie quindi ai sei mesi all'europeo e all'europeo ai sei mesi all'eventus in prestito e all'europeo potrebbe rivalorizzarsi allora lì potrebbe essere il momento giusto per venderlo ma perché secondo noi non è il centro acquistato per la juventus scopriamolo calvin phillips è un ragazzo di 27 anni è un classe 1995 quindi a livello di età è un acquisto che ci può stare non è un ultra trentenne ma non è neanche un diciottenne di fatto è un giocatore che tendenzialmente ha l'esperienza per poter tra nazionale city potrebbe fare al caso della juventus è un giocatore che come abbiamo detto arriva nell'estate del 2022 dall'eats con loco bielsa lui si forma 60 milioni investe il city per lui ma di fatto il giocatore non gioca praticamente mai perché guardiola non crede fondamentalmente in lui dove potrebbe giocare calvin phillips secondo me il ruolo perfetto per calvin phillips è davanti la difesa in un centrocampo a 2 tendenzialmente cioè davanti la difesa un centrocampo a 2 a sinistra è un mediano che può giocare a sinistra davanti la difesa quindi è un mediano basso alcuni lo hanno definito una sorta di box to box io non credo che sia assolutamente così perché un giocatore che si ama difendere si ama dare ordine alla squadra in questo è molto bravo perché il classico giocatore che ama intercettare i passaggi altrui ama anticipare l'avversario ama recuperare i palloni è una volta che recupera il pallone ama posizionarsi nella zona di campo che sia facile da raggiungere per il compere il passaggio del compagno di quindi da questo punto di vista è uno che può gestire molto bene la fase difensiva della juventus è il classico giocatore che è il classico mediano che vede abbassarsi tra i due centrali diventare quasi un terzo della difesa per poi impostare il gioco ma non è un box to box questo cosa vuol dire che non è la fase difensiva non è il pari alla fase offensiva quindi lo vediamo molto spesso nella zona e diciamo della propria metà campo lo vediamo raramente la zona della tre quarti dico raramente non dico mai perché ogni tanto lo vedi che prova un po ad avanzare ma tendenzialmente lui ama e tenere il controllo della squadra dal basso non da diciamo da tre quartista potrebbe anche fare la mezzala essenzialmente ma credo che in questo centrocampo qualora eventus dovesse bloccarlo e quindi prenderlo in un centrocampo ipotetico con locatelli calvin philips e radio io credo che calvin philips e philips possa giocare davanti alla difesa con lo spostamento definitivo di locatelli che vi ho detto tante volte per me può agire da mezzala lo ha fatto in nazionale quando il regista era giorgigno secondo me l'ha fatto anche con buoni risultati se dovessi scegliere tra lui e calvin philips paralosalmente sceglierei proprio locatelli come mezzala e non calvin philips è un giocatore che ha il tiro da fuori perché ogni tanto prova a tirare da fuori ma a livello di inserimenti senza il pallone quindi in aria diciamo che non ci siamo proprio cioè a livello di inserimenti non ci siamo proprio basta guardare le le mappe appunto di calvin philips e vediamo che essenzialmente lui non entra praticamente mai in aria non è tra l'altro un giocatore che ama le sventagliate alla pirlo qualcuno in inghilterra l'ha paragonato a pirlo ma siamo lontani all'iluce dalla qualità tecnica dell'ex centrocampista dell'italia e della juventus ha la capacità però di rimanere sempre all'interno della partita un giocatore molto ordinato molto tattico e soprattutto in grado di essere sempre concentrato e quindi è bravo a anticipare l'avversario è rognoso è uno di quelli che in un centrocampo ti serve secondo me però in questo centrocampo secondo me attualmente serve più qualità che quantità perché in un centrocampo è quello catelli che sta diventando sempre più quantitativo che qualitativo e il rabbiò secondo me hai bisogno di più qualità e calvin philips a mio avviso non è il centrocampista dato cioè ti serve uno che sta più nella zona da tre quarti che non nella zona difensiva calvin philips è più facile che lo vedi davanti i due difensi davanti difensore comunque davanti la coppia difensiva in questo caso nel caso l'avventus dei tre davanti alla difesa piuttosto che vederlo a supporto delle punte e secondo me in questo momento l'avventus ha bisogno di un giocatore che sia più un trequartista che un difensore ecco per intenderci ed è per questo che sotto me potrebbe essere ideale il nome ad esempio di cup minor perché è un giocatore quello sì è un box to box che lo vedi sia davanti alla difesa perché nasce come difensore centrale ma anche a supporto delle punte se non a caso fa quasi 10 gol alla stagione cup minor quindi diciamo che è un giocatore che è più adatto per questo tipo di investimento quindi io credo che non sia adatto se però la juventus va su calvin philips secondo me c'è l'idea di prenderne un altro perché non posso credere al fatto che prendi per di poppa e prendi fagioli quindi due giocatori tecnici e prendi un altro fisico o prendi questo come giocatore per ulteriormente rinforzare prenderne due ma un altro ti serve offensivamente parlando e quindi calvin philips ci può stare la juventus sì ma solo se ne prendi un altro offensivo se no continueremo la juventus molto difesa a vedere una juventus molto difensiva con l'ennesimo giocatore difensivo che non aiuta e non dà il supporto giusto ai propri compagni d'attacco e quindi la domanda la gira voi calvin philips vicino a juve nel senso che fabrizio ormano parla di trattativa avviata con un siti che dovrebbe accettare la formula del presso con diritto di riscatto ma comunque anche fabrizio ormano dice che c'è il sì del giocatore apertura totale al trasferimento quindi secondo voi il nome giusto oppure secondo voi un giocatore troppo fisico e troppo difensivo per la juve parliamo più sotto nei commenti